no no perfetto perfetto ma che figo questo schermo lo dobbiamo guardare il libro ciao a tutti ragazzi come state benvenuti in un nuovo video tappabuchi oggi sono qua con praticamente tutti veniamo da una litigata si abbiamo appena litigato o meglio loro hanno litigato vedo l'ora che hai da offrire una cena quando avrò ragione quando avrò ragione me la offri la YouTube bro ma non hai ragione continuate perfetto è materiale per rinasticare Maria De Filippi però dopo mi scrivo i passaggi che mi hai detto perchè voglio avere le prove iniziamo con i giochi di prestigio ma prima di tutto volevo dirvi una cosa è una battuta sono troppo parato no che oggi ho rischiato di tirar sotto un cane con la macchina ma l'ha schivata l'ha schivata guardami ci ho messo un attimino bene bene raga ci sono due aschi però il problema è che uno è un aschi brutto l'altro è una schifezza non la sa neanche dire non la sa neanche dire raga ho un gioco veramente figo che potrebbe piacere facciamo un gioco di magia testa credo tutti con le carte suppongo questo giro io con questo vi faccio un gioco con 9 carte 1,2,3,4,5,6,7,8,9 che sono esattamente 4 jack rossi una carta nera 10 e altri 4 jack rossi e un 10 di picchio ora attenzione questo gioco si chiama la wild card la carta che contagia attenzione selvaggia beh mi sembra abbastanza chiaro ah ok così proprio continuo questo è uno dei miei preferiti dai proviamo ok ancora una volta ne rimangono due ne rimangono due attenzione eh vabbè eh vabbè eh vabbè eh vabbè oh oh ovvio siamo wild card pulito pulito thank you thank you thank you thank you bro bro hai spaccato ho finito ah così si chi tocca chi tocca sbarca 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 mi piace un botto tu quando fai i miei video parli sempre con haid non si è mai capito perché è vero questa cosa si fratellini no io parlo sempre a destra esatto quando cammino con una persona se sei lì se ce l'ho a destra sono a mio agio se ce l'ho a sinistra meno no aspetta questa cosa ci stanno io un po' lo faccio io quando cammino con una persona ce l'ho te lo giuro dai però non è che parlo solo a destra non è che parlo cioè quelli a sinistra non esiste ma raga ma non solo per nulla dai vai sbarca allora ragazzi vi faccio vedere un gioco che mi piace un botto e che è più un esperimento scientifico che si gira a barbara dai raga cioè sto parlando in italiano c'è la videocamera tutti lì se facciamo le sfide si si due ore a voglia vi state facendo finire a sudare le mani poi scappa vai 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 è il mio turno è il tuo turno vi faccio vedere un gioco di magia dai raga vi prego però poi c'è a me colpa mia io non so se ne vedo è vero vecchio muoviti vai 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 ma senta che rischio vai vai allora vi faccio vedere un gioco di magia che in realtà è più un esperimento scientifico ok cioè nel senso quando sono a casa e non so cosa fare io provo con le carte a replicare quelli che sono gli esperimenti scientifici sperimenti un po' l'avete visto nei film mai il teletrasporto tipo eh sì sì avete mai sentito parlare no? sì sì ecco ecco io ho già perso una delle quattro carte e ho scoperto che nel mazzo di carte queste quattro queste quattro carte qui che sono le quattro donne quattro carte molto belle molto particolari affascinanti direi riescono a effettuare il teletrasporto come l'ho scoperto? cioè io ho preso le due donne nere e le ho messe da una parte del tappetino quindi mi sono messo lì proprio un giorno non avevo niente da fare le ho messe proprio così da una parte del tappetino e ho lasciato quelle rosse dall'altra e poi ho scoperto che se tu premi il tastino dietro ah il tastino? nel teletrasporto cioè non ho mai capito in realtà bene come loro si teletrasportano ok questa in realtà è una cosa abbastanza cioè figa però ho scoperto che riescono a teletrasportare anche la materia fra di loro nel nostro caso specifico una carta quindi scegli una carta quella che vuoi che sarà la carta del teletrasporto quindi possiamo anche vederla ah ok possiamo anche vederla e Ayd tu decidi vuoi che nel teletrasporto incominci dalle donne nere o dalle donne rosse? dalle donne rosse dalle donne rosse guarda eh prendiamo la carta così e la mettiamo tra le due donne rosse più o meno non so dove più o meno un po' più avanti con le maniche così si vedrà verso il centro del mazzo ora la carta scelta sei d'accordo con me che è tra le due donne rosse e qui ci rimangono due normalissime donne nere guarda eh ti faccio vivere il fenomeno del teletrasporto giro le donne nere passo sopra premo il pulsantino ecco non so se si è notato la carta scelta passa tra le due donne nere e la cosa bella ho scoperto che è anche un procedimento reversibile cioè ogni volta che tu passi premi il tastino vedi? qui scoperto la carta perché in realtà è sempre stata più o meno nel centro non so se si vede bellissime sii 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 tu no sbard va bene aspetta le carte di chi sono? io no credo sapete se sono tutte raga perché in teoria di non so non ne ho la minima idea forse sono me sono tutte secondo me raga ne manca una vabbè vabbè non fa niente facciamo anche un mazzo incompleto facciamo una cosa perché vi spiego mi serve di sapere le carte cioè mi serve una connessione quindi se tipo tu pensi una carta che non c'è ok ok per quello sbaglio per togliere questo problema facciamo che la scegli direttamente dal mazzo così siamo sicuri che c'è va bene ti chiedo Jack alza un pochino di carte meno della metà e guarda l'ultima così quella sarà la tua carta molto easy e tu farla vedere chiaro sbard tu alza metà mazzo quello che rimane e tu Jack buttaci le carte dentro chiuso chiudi 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 perfetto così non posso sapere dov'è la tua carta bene semplicissimo raga proverò a capirla è impossibile si proverò a capirla però bisogna Jack che tu chiaramente ti concentrati su quella carta e che tutti voi che l'avete vista ti concentrati su questa carta certo ci provo vediamo se siamo abbastanza connessi no saprei dire non era tra queste vero? no no neanche tra queste no siamo più veloce che vuole fare neanche tra queste vero? no 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 questo esperimento è una roba particolare perché io non voglio toccare il mazzo e soprattutto potrei stare anche molto lontano ma ora uscirei dalla videocamera ok quindi faccio così do il mazzo direttamente ad AID ok ti do delle istruzioni semplicissime taglia e chiudi il mazzo ok posso farlo vedere? sì sì certo 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 taglia e chiudi ovviamente è importante non mi far vedere nemmeno la carta sul fondo e magari qualcuno potrebbe pensare ok così va e te taglia e chiudi quante volte vuoi finché non ti senti di essere nel punto giusto ah devo scegliere il punto giusto sì ci sono ci sei? ora io adesso mi giro anche prendi la prima carta la guardi la fai vedere e la lasci più o meno nel centro del mazzo ok io mi giro ok mettila più o meno nel centro ovviamente sempre coperta di dorso ho preso il punto giusto ho preso il punto giusto ho preso il punto giusto però fatto fatto? sì fatto perfetto posso girarmi quindi è tutto coperto ovviamente non mi flashare il fondo non mi far vedere niente vi torna che io non ho toccato il mazzo no è stato mescolato è stato tagliato non ho visto la carta non ho visto dove l'hai messa non posso sapere niente nulla però ha istinto secondo me ho un numero che riecheggia nella mente prova riecheggia nella mente sì sì ce l'ho ce l'ho no seriamente 17 no dai bro hai così una ad uno girare di faccia anche per far vedere che sono tutte carte diverse è impossibile bro te lo giuro uno sì sì due fermati quando sei alla sedicesima ok va bene vai mi giro io non voglio dire nemmeno le carte sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici non ha senso fermo poi te non puoi fare queste cose ora sarebbe incredibile se la carta dopo me ne vado fosse esattamente la tua impossibile impossibile ma sarebbe ancora più incredibile se io senza nemmeno guardare ti dicesse hai scelto una carta rossa rossa una carta di quadri un 6 di quadri si però se la dici al settesima carta è un 6 di quadri essi non ha un miracolo io mi taglio il pisello Jack eh si Jack gira la carta e fai vedere tutti no raga il 6 di quadri no ma bro ma assurdo pulato mi hai ma l'ho messa a cambio mi hai distrutto assurdo bellissimo mi hai spaccato mi hai aperto la testa a metà a me mi ha fullato veramente no non ho fullato vai Vitto fammi venire lì no vieni vai 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 vitto mescola vai vai guarda faccio così mescola che casino e dai mamma mia di classe incredibile taglia completa come vuoi se vuoi tagliare e completare si dai un tagliettino eeeh ooooo vedi ma bro ma sei tipo fai il Mario bro stesso io sono pico vai io mi fido di loro io mi estendo ho pigliato il salto questa è malissima dell'angolino allora Jack ti scorro le carte così quando vuoi mi fermi ahhh stop qui una più o una in meno una più questa qui si così si prendi pure le carte ovviamente io potrei sapere un po' quante carte sono difficile ma è difficile ma potrei potrei saperlo più o meno quindi adesso io mi giro togli un po' di carte due o tre carte ok e le nascondi sotto al tappetino così io non so quante carte hai in mano ok dimmi quando hai fatto 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 adesso con quello che ti è rimasto fai due mazzetti ok a caso si 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 possono anche essere non destra o sinistra possono anche essere numero di carte diverse uno dall'altro ok ok ci sei? si scegli ne uno prendilo mescolalo velocemente guarda la carta di fondo falla vedere a tutti guardala anche in camera quando hai fatto ok sei mi appoggio? si prendi anche quello abbiamo anche delle carte nascoste giusto? prendi tutto prendi tutto insieme mescola un po' mescola 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 ok butta butta ok butti butti miscola un po' miscola un po' pam 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 che macello disastro casino meno male infatti vi ho visto un po' sofferenti nell'angolo ci provo è impossibile bro no way cosa vuol dire? eh ci provo io per me non me la ricordo più io ce l'ho io ce l'ho io me la ricordo ce l'ho ricordate? io si si ce l'ho vedete? si si trasmettimela jack ok grazie hai difensa intensamente te lo passo comunque è impossibile raga no non può fare è concentrato come un pazzo raga è impossibile no no non c'è verso non può non ci credo mai mai non c'è che carta avevate tre di cuori tre di cuori oh yeah questo fa male male al cuore io non li capirò mai sempre il nostro amico mi faccio un gioco finale è un basso ooooo faccio il finale mi spacco la faccia macchio bro se non oh di tocca una no bro tra tutte no la carta della metamorfosi hai scelto? nooo nooo volevi scegliere la carta ambiziosa o la carta che si trasforma la carta della metamorfosi ma perché il pazzo di merda è tocchi le arti si trasportano quello che si trasforma cos'hai capri ma guardatevi così ma avete toccato avete triccato nooo nooo la carta della metamorfosi però ma però io non ci credo te lo giuro adesso ti faccio vedere perché cosa vuoi dire? dimmi stop bro ti piace questa? guardala faccio vedere però non capisco cosa vuol dire l'hai vista? ok attenzione io mescolo le carte ora ho bisogno di un altro spettatore che prenda una carta prendi una a me a me guardala tu solo tu solo tu solo l'ho vista mettila pure qua ah no in effetti forse andava messa qua scusami bro manca un terzo spettatore chi è che c'è anche lui io ho toccato la carta guardala tu solo guardala tu solo tu solo ok ce l'hai? si e questa si potrebbe mettere tipo qua si ok o non lo so va bene va bene o anche no o la lasciamo qua o la mettiamo no lasciala lì la lasciamo qua quindi sicuramente qua vedete ognuno di voi la vostra carta siete sicuri no? io la vedo perfetto io vado a mescolare le carte un pelino così taglio e mescolo tanto userò la carta della metamorfosi e la carta della metamorfosi il lasso di quadri facile mi aiuterà a ritrovare le vostre infatti si attenzione basta fare così che ora qui arriva la tua no vecchio che ora qui arriva la tua e che ora qui arriva la tua basta fare così che la carta della metamorfosi rimane sempre la stessa era la mia era quella? si era quella cosa vuol dire bro? la carta ma questa è la mia bellissima la carta della metamorfosi no tutta colpa tua bro ma raga io ho toccato questa figlio bro eh si non la facevate? eh l'avevo visto un tempo bellissimo no Jack non siamo d'accordo cioè ovvio raga non siamo d'accordo non è d'accordo è finissimo la carta della metamorfosi secondo me è uno dei giochi più belli in assoluto proprio così for real raga spero che raga 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 è finito questo video sì spero che non lo abbiate visto ma guai è impossibile perché è impossibile se siete arrivati fino qua ci vuole cosa devono commentare fino qua bene dai bene dai bene dai seguite tutti i loro canali Jack, Vitto, Sbard e lo zio Aide e come al solito ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao